A seguito di notizia circolata su diversi social network ripresa da diversi organi della carta stampata e online, circa la cartura nelle acque antistanti, la foce del fiume Sele di un raro esemplare di squalo volpe, specie in pericolo di estinzione e pertanto tutelata dalla Convenzione CITES, i militari specializzati del nucleo carabinieri CITES di Salerno hanno provveduto ai necessari dovuti riscontri volti ad accertarne in primis l'effettiva appartenenza dell'esemplare alla specie protetta. Non detenendo più il soggetto che aveva eseguito la cattura allo squalo nella sua disponibilità, una rapida identificazione veniva effettuata con la consulenza della stazione zoologica Anton Dorn, l'Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, su documentazione fotografica qualificando in prima battuta l'esemplare come squalo azzurro o verdesca. Successive ulteriori indagini portavano ad identificare il furgone utilizzato per il trasporto e da ricostruire il tragitto del pescato che risultava essere stato ceduto ad un esercizio commerciale di Agropoli. Il tempestivo accesso dei militari avvenuto al momento dell'apertura della pescheria consentiva di rinvenire l'esemplare posto in vendita in tranci come palombo. Si procedeva pertanto all'immediato fermo amministrativo e al fine di definire con certezza la specie al prelievo di campioni di tessuto da parte del veterinario della competente asla territoriale. Le specifiche analisi genetiche ottenute mediante PCR e sequenziamento eseguite presso l'Istituto Zorro Filattico Meridionale di Portici confermavano l'appartenenza dello squalo alla specie e pertanto si procedeva a denunciare il titolare della pescheria già sanzionato dai carabinieri CITES con una multa fino a 4.500 euro per il mancato tracciamento del pesce anche per frode in commercio e da sequestrare 26 kg di carne di squalo già apporzionato venduto come palombo. Infatti è da ricordare a garanzia dei consumatori che la vendita di pesci la cui provenienza non è tracciabile è vietata dal decreto legislativo 15 settembre 2017 numero 145 e dal regolamento 178 del 28 gennaio 2002 così come vendere una specie per un'altra come per esempio uno squalo propinandolo per pesce spada configure il reato di frode in commercio punito dall'articolo 515 del codice penale. Grazie per la visione!